Terminata la fase di reinserimento nell'ambiente naturale in un luogo protetto, sono stati liberati in una zona boschiva di media montagna in località Cevrè, al confine fra i territori dei comuni di Caprie e Condove, quattro giovani caprioli che circa un anno fa erano stati portati da alcuni cittadini al centro animali non convenzionali della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università, convenzionato con il servizio tutela fauna e flora della città metropolitana di Torino. La liberazione è avvenuta in un ambiente idoneo al sostentamento naturale degli animali, lontano dai centri abitati e dalle colture agricole e di notevole valenza naturalistica. All'operazione rappresenta il vicesindaco metropolitano che ha le delega all'ambiente e alla tutela della fauna e della flora. Il servizio, come tutti i servizi della città metropolitana di Torino, hanno subito dei drastici tagli legati anche alla riforma della legge del Rio, la cosiddetta legge del Rio. Quindi in questo momento noi stiamo chiedendo alla Regione un potenziamento perché queste funzioni sono sentite dalla cittadinanza, richieste dai comuni e di conseguenza questo è il servizio pubblico. I piccoli caprioli erano stati sottratti inconsapevolmente alle cure della mamma ed erano giunti al centro che ha sede a Grugliasco verso la fine del maggio dell'anno scorso. Erano stati alimentati con latte di capra, il più simile a quello materno. A Grugliasco era iniziato il processo di svezzamento, limitando al massimo il contatto con gli esseri umani. I caprioli erano poi stati trasferiti in un centro di riambientamento a Caprie, in bassa Valsusa, anch'esso convenzionato con il servizio tutela fauna e flora della città metropolitana. Questi sono dei giovani caprioli di un anno che ci sono stati consegnati a maggio dell'anno scorso, sono stati consegnati al progetto Salviamoli Insieme del servizio di tutela della fauna e della flora della città metropolitana di Torino. Bisogna dire ai cittadini che questi animali vanno lasciati dove sono perché sono stati sottratti ai genitori. Comunque noi li abbiamo allevati, hanno passato un periodo di preambientamento in una nostra struttura Caprie e adesso che sono diventati adulti li abbiamo riportati in natura.